Chiamare signorina una persona che ha qualifiche vuol dire sminuirla, non riconoscere il percorso che quella donna ha fatto, così come declinare solo al maschile i ruoli, ignorando che chi riveste quei ruoli è una donna, vuol dire non riconoscere a quella persona, a quella donna, il percorso che lei ha fatto, cioè le sue conquiste, le battaglie vinte. Quindi io penso che noi non possiamo ignorare che oggi le donne sono parte integrante della società e il linguaggio cambia quando la società cambia. E dunque è giusto riconoscere alle donne quello che è delle donne, anche nel linguaggio. Il femminismo è stato ed è un grande movimento che ha consentito alla società di essere più giusta, più aperta, più inclusiva e ha spazzato via millenni di sopraffazione e di diseguaglianze. Chiaramente la strada è ancora lunga, non abbiamo fatto tutto, ma molte cose, insomma, almeno sulla carta, oggi c'è parità di diritti e di doveri. Evidentemente il problema va oltre, è culturale e quindi dobbiamo insistere e lavorare di più con i giovani nelle scuole e ogni donna si deve fare carico di questo processo, ogni donna deve riuscire a rifiutare quello che non considera giusto, quello che considera, come dire, discriminatorio. Si parla di femminismo e discriminazioni e pregiudizi nei confronti delle donne, ma anche di spunti e consapevolezze per poter contrastare l'andamento culturale e invertire la rotta con l'attuale presidente del Comitato Permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. La deputata Laura Boldrini, con una lunga carriera anche in campo internazionale alle spalle, dal 2013 al 2018 è stata la terza carica dello Stato, essendo la presidenza della Camera dei Deputati. Ha fatto tappa anche a Caltanissetta per presentare il suo libro, Questo non è normale, come porre fine al potere maschile sulle donne. In Italia succedono molte cose che non sono normali ai danni delle donne, discriminazioni diverse, ma siccome si ripetono c'è il rischio che vengano considerate normali, proprio perché se una cosa viene fatta continuamente uno si abitua e invece non dobbiamo abituarci all'ingiustizia, all'assessismo, alla misoginia che purtroppo è molto presente ancora nel nostro paese. Quindi nel libro io evidenzio i problemi, cerco di dare le soluzioni secondo la mia ottica, la mia visione e anche incoraggiare le donne a mollare gli ormeggi, per così dire, cioè a cambiare registro. Perché il paese cambierà solo quando ciascuna di noi si farà carico di questo cambiamento e lo farà a casa, nel posto di lavoro, nella società, con gli amici. Non si può più stare zitte, non si può più abbassare la testa, non si può più subire. Perché questo ci condanna all'infelicità, ci condanna alla irrilevanza, ci condanna a essere gregarie e le donne hanno bisogno di protagonismo. Diversi gli interventi e le domande poste al termine della presentazione da un pubblico attento e coinvolto presenti al Centro Culturale Polivalente, Michele Abbate. Le discriminazioni si trovano in tutti gli ambiti, intanto nell'ambito lavorativo, nell'ambito dell'attivismo ci sono tantissime discriminazioni in seno alla famiglia. Quante volte si dice alla donna ti aiuto io oppure tuo marito non ti aiuta abbastanza. Questa è una frase molto sottile, una considerazione molto sottile ma caratterizzante delle condizioni in cui vivono le donne. Tutto fa specchio, tutto è uno specchio perché se nell'ambito lavorativo, nell'ambito della famiglia una donna non viene valorizzata, queste donne avranno difficoltà a imporsi nell'ambito della politica, nell'ambito del lavoro stesso.